Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su mi piace e iscriviti al nostro canale. La storia d'amore tra Albano Carrisi e Momina Pao è stata una delle più celebri e chiacchierate della televisione italiana. Nonostante la fine del loro matrimonio, avvenuta nel 1999, il legame tra i due artisti ha sempre affascinato il pubblico. Molti fan hanno sognato di vederli riuniti, ma sembrava che entrambi avessero scelto strade diverse. Tuttavia, recentemente Momina Pao ha fatto una dichiarazione che ha fatto sperare nuovamente i loro sostenitori. Durante un'intervista, Romina ha affermato con fermezza, Albano sarà sempre mio marito, al di là di tutto. Ci siamo sposati in chiesa, e per la chiesa, noi lo siamo ancora. Questa affermazione ha gettato nuova luce sulla situazione della coppia. Nonostante la separazione avvenuta molti anni fa, Albano e Romina non hanno mai richiesto l'annullamento del loro matrimonio religioso. Di conseguenza, secondo la chiesa, Albano e Romina sono ancora legalmente marito e moglie. Questa notizia ha riportato alla ribalta la speranza di molti fan che avevano sognato una possibile riunione della coppia iconica. Tuttavia, qualche giorno fa, Albano Carrisi ha annunciato attraverso le pagine del settimanale di più di aver riallacciato il legame sentimentale con Loredana Lecciso, madre dei suoi due figli, Yari e Yasmin. Questo annuncio ha messo fine alle voci che lo vedevano di nuovo al fianco di Romina Power. La storia tra Albano e Romina continua a suscitare emozioni e ad appassionare il pubblico, nonostante i cambiamenti nella vita sentimentale di entrambi. Resta da vedere cosa riserva il futuro per queste due leggende della musica italiana, ma una cosa è certa. Il loro amore e la loro musica rimarranno nel cuore dei loro fan per sempre. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.